Buongiorno. Mario, quest'estate avete portato quattro trofei dalla Coppa America alla Coppa d'Africa, alla National League. L'anno in cui Maradona ha portato lo scudetto al Napoli e ha vinto i mondiali. Non sono arrivati i mondiali, però questo può essere uno sprono per voi, soprattutto può farvi pensare che c'è una continuità con quello che accadde? Lo speriamo, non solo io, però se quest'anno potesse arrivare qualcosa di importante lo raccoglieremo a braccia aperte perché penso che come tutta la squadra, anche la città, siamo un po' in ansia per poter vincere qualcosa e quindi speriamo che sia l'anno buono. In Nazionale avrai avuto sicuramente modo di parlare con Cristiano Ronaldo. Come vive il fatto che ci sia questa rivalità Napoli-Juve? Come vede il Napoli in quanto rivale della Juventus? Per dire la verità, in Nazionale non è che abbiamo parlato molto delle nostre squadre. eravamo concentrati su una competizione europea e molto importante per noi quindi abbiamo parlato soprattutto della Nazionale, abbiamo lasciato le squadre fuori. Mario ti chiedo del tuo momento perché è cambiato molto, forse tanto, in poco tempo. Ancelotti ti ha tolto dal mercato, ha speso parole importantissime per te e forse mi sembra da qui la sensazione che sia rinato anche il rapporto con il pubblico dopo che il tuo agente definì ostile proprio questo rapporto per qualche critica che forse non meritavi. Ognuno è libero di esprimere i suoi pensieri, i suoi pareri, io almeno sono stato sempre molto tranquillo perché almeno dalla società nessuno, neanche il Miss, mi aveva detto che era il suo mercato quindi io penso che queste cose sul mercato è stato anche messo lì da qualcun altro perché sia la società che il Miss hanno sempre ribadito la volontà che io rimanessi a Napoli quindi io adesso sto bene, mi trovo bene col gruppo, con la gente e spero che le cose continuino così. Ti chiedo invece a livello tattico, Ancelotti ci ha spesso raccontato di questo Napoli più aggressivo che sta nascendo, terzini che noi vediamo un po' più alti rispetto magari anche all'anno scorso questi piccoli cambiamenti possono aiutarti, per caratteristiche forse potresti trovarti ancora meglio con Ancelotti e poi ti chiedo anche se ti vedi anche in un ruolo da esterno alto come hai giocato in qualche frangente nel finale della scorsa stagione. Io penso che quello che stiamo facendo adesso a livello tattico sarà già fatto anche un pochino l'anno scorso quindi io penso l'anno scorso magari è stato più un periodo di adattamento a quello che voleva il Miss quindi quest'anno saremo ancora più preparato. Poi io penso che sia un po' difficile di giocare da esterno perché ho visto i giocatori e le qualità che hanno davanti e quindi mi sa che farò un po' fatica a giocare davanti però se capita l'occasione sicuramente sarò pronto. Mario, il Presidente vuole vincere, il Miss Carlo Ancelotti ha dichiarato di non volersi più accontentare del secondo posto avete la sensazione che quest'anno si possa vincere qualche cosa anche di importante e soprattutto ti chiedo quanto siete ancora distanti dalla Juventus? Io quello che penso è che quest'anno sarà ancora più difficile e più equilibrato rispetto all'anno scorso penso che ogni squadra è migliorata sia a livello individuale che a livello collettivo e come ho detto anche prima il nostro obiettivo è quello di cercare di dare qualche gioia importante non solo a noi ma come a tutta la città quindi se questo sarà l'anno buono lo speriamo tutti. È il nome caldo, Ames Rodriguez, ne parla il Presidente, ne parla il Mister, ma il Mister ne parla con voi c'è la sensazione che forse si stia provando qualche cosa di nuovo a livello di modulo anche per l'inserimento del calciatore colombiano? Non so, non saprò rispondere sinceramente, se le parla del Mister e si parla del Presidente penso che sono cose che riguardano loro di mercato come potete immaginare non è che parliamo così con il Presidente e con il Mister quindi penso che sono domande che si devono fare a loro. Chi è arrivato già si sta allenando con te Emano Lassa, hai giocato anche con lui alla Roma e lui come te viene venuto dalla Roma al Napoli come cambia la difesa con lui e se prima di arrivare al Napoli vi siete sentiti avendo avvissuto già un'esperienza in sia? Sì, a parte che prima che lui firmassi mi ha chiamato però sicuramente quello non vi posso dire cosa abbiamo parlato No, a parte scherza l'ho detto che sarebbe stato accolto come tutti come hanno accolto anche a me, braccia aperte perché il gruppo era veramente un gruppo difficile a trovare quindi sarebbe stato accolto nei modi migliori poi come calciatore penso che lo sapete tutti che tipo di calciatore è Costas quindi penso che ci darà una grossa mano e spero che col suo aiuto e con l'aiuto di tutti si possa fare qualcosa di importante Un altro tuo grande amico è Lorenzo Insigne lo stiamo vedendo protagonista di un'operazione di simpatia sempre con i diffusi, anche di scherzare con te sotto gli spalti ci racconti dall'interno se è cambiato qualcosa com'è questo Lorenzo Insigne trascinatore di tutto il gruppo? No, ma Lorenzo non ha cambiato di una virgola Lorenzo è quello che lo vedete Lorenzo è stato almeno da quando io sono qua e da quando conosco Lorenzo Lorenzo è sempre quel Lorenzo lì divertente, scherzoso, amico quindi questo è il ragazzo che conosco e è quello che è Mario, quando sei arrivato a Napoli sui social sono aumentati tantissimo i tuoi follower poi un buco nero, un momento di rottura, hai bloccato anche i commenti in un momento sfortunato quale sarà Mario Rui sui social nella prossima stagione e qual è il tuo rapporto con i ragazzi che ti scrivono sui social condizionano anche le tue prestazioni? Ti dico la verità non sono uno che sta molto dietro ai social l'ho fatto, è vero come potete anche vedere voi non sono uno che posta tantissime cose metto poche cose dovuto a quello che è successo a cancellare tutti quei messaggi è stato non le critiche verso di me che quelle le posso sopportare tranquillamente mi fanno veramente poco però il problema è che con questi social la gente pensa di poter dire qualsiasi cosa quando ti attaccano a te va bene lo posso accettare ma quando viene messa in mezzo la tua famiglia è un po' più difficile da sopportare quindi per quello l'ho fatto il miglior momento visto qui a Napoli è il peggior momento un momento che vorresti cancellare? il miglior momento non so magari sia stata quella vittoria lì allo Juventus Stadium che ci ha fatto credere che veramente era possibile vincere qualcosa che siamo andati veramente vicini poi magari il peggior momento è stata la sconfitta magari con la Fiorentina che ci ha dato la possibilità di vincere lo Scudetto Fosigulam è tornato in forma c'è stata anche una dichiarazione da parte di Ancelotti la concorrenza col Franco Algerino può essere un ulteriore stimolo per te quest'anno? certo è uno stimolo immenso perché tutti sappiamo che il calciatore Fosì è tornato dall'infortunio già da tempo sta tornando il Fosì che era che era uno di migliaia terzino e sinistri quindi penso che poter lottare con uno delle qualità di Fosì ti fa solo crescere ti fa solo migliorare quindi io penso che sia anche un bene per tutto il gruppo avere più di un giocatore per ruolo forte che così ci dà più alternative e la più possibilità di cambiare durante l'anno l'obiettivo personale di Mario Rui è l'obiettivo di questo Napoli? il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra e migliorare e quello della squadra è lo stesso migliorare la scorsa stagione e andarsi ancora più vicino e chissà poter arrivare veramente in fondo a qualcosa di importante grazie grazie mille